Perin, il migliore nella Juve peggiore. Il titolo è questo ed è perfino benevolo per una partita nella quale lo Stoccarda ha dominato, anzi ha stradominato per 90 minuti, senza storia e senza giustificazioni né discorsi benevoli perché sulla Juventus di questa partita non si può dire assolutamente nulla di positivo. Credo anche tutti quelli che vogliono sfruttare una narrazione un po' particolare non avranno tanti argomenti per commentare questa partita. È naturale che si tratta della prima sconfitta per la squadra di Tiago Motta ma con dati che non sono possesso palla, percentuali più o meno strane. I dati sono un palo dello Stoccarda, un gol annullato per pochi centimetri, un rigore con miracolo di Perin, alla fine è arrivato il gol, una decina di tiri in porta. Non ci sono tanti appigli per giustificare la prestazione della Juventus se non il fatto di aver giocato contro una grande squadra che è comunque lo Stoccarda. Cioè tre giorni fa in campionato aveva perso contro il Bayern Monaco anche se bisogna dire che in Champions League aveva fatto una buona impressione. A proposito di impressione, sempre di Champions League, parliamo dicendo che all'Ipsia la Juventus aveva giocato una delle migliori partite più belle e più entusiasmanti degli ultimi anni. Un po' di pagelle sparse per tenere a mente tutto, due parole su Perin, questo è un gran portiere, è un gran portiere che merita di vivere una serata così. Si dispiace per Perin che questa serata in cui ha fatto tantissime prudezze con un rigore parato da campione non sia stata, come dire, sottolineata da un risultato positivo. Poi la fascia destra con Savona e con Sesao è stata messa in grandissima difficoltà. I due difensori centrali, Calulo più o meno come al solito, Danilo non è in condizione psicologica secondo me di dare un contributo all'altezza del suo nome e della sua fascia da capitano perché è evidente che quando dopo tanto tempo torni a giocare titolare non hai più l'autorevolezza, la convinzione, l'autostima per farlo in maniera decente. Infatti ha provocato il rigore nonché l'espulsione. E Cabal Benino, Ildiz a sinistra, discreto. Poi quando è uscito Vlaovic dopo 69 minuti, a proposito su Vlaovic, sulla sua sostituzione ci sono due letture. La prima è che sia stata una sostituzione conservativa per il match che attende la Juventus contro l'Inter domenica. La seconda spiegazione è che Motta puntava al pareggio. Quando mancavano ancora 21 minuti più recupero alla fine è andato Ildiz a fare il falso Nueve. Ora su questo ragazzo poi che deve ancora crescere, deve ancora maturare, mi permetto di dire che è tutto l'anno che viene impiegato da 11, come si chiamava una volta la sinistra, oppure adesso da falso Nueve, credo che secondo il talento e il numero di maglia che indossa, qualche tentativo da 10 andrebbe anche fatto. Riguardo a Vlaovic invece la prestazione è senza dubbio sottotono, ma non si può dire nulla sul fatto che abbia lottato e abbia tentato in tutti i modi di rendersi utile toccando non so quanti palloni, ma secondo me non si contano sulle dita di una mano i palloni che sono stati serviti a Vlaovic in maniera plausibile per sviluppare un'azione. Ha tentato di proporre un po' di azione anche Fagioli, trovando poco contributo da Thuram e McKennie, in generale la Juventus è stata soffocata dallo Stoccarda. Stoccarda che è una buona squadra, anzi un'ottima squadra, a vedere l'impressione che ha fatto allo stadion, una super squadra. Poi guardi quello che succede in Bundesliga e nell'ultima partita, non aveva avuto certo la meglio contro il Bayern, anzi tutt'altro. Però evidentemente c'è qualcosa che nella Juventus è venuto fuori all'improvviso dopo alcuni segnali che ci hanno stati anche in campionato, coperti dai risultati. Con questa analisi non voglio essere però troppo severo perché cerco semplicemente di elencare i fatti. Poi è chiaro che quando ci sono i fatti e il risultato è tutto sommato diverso, scombussola un po' la lettura proprio del tiro in porta, occasioni create, occasioni subite. E allora si dà una spiegazione che secondo me è varia, è variegata e comprende il gioco, il possesso palla, l'attenzione, il pressing più o meno alto. Io in una partita come questa credo che non ci sia nulla dal punto di vista discorsivo per cambiare un elenco proprio dei fatti che sono accaduti. Cioè qui la narrazione che elogia insomma il gioco della Juventus credo che non sia plausibile in una partita come questa. Niente di grave per quanto riguarda la Champions League, il percorso verso la qualificazione è ancora assolutamente in discesa e con merito. Perché insomma la vittoria sul PSV in dove non la cancella nessuno, tantomeno quella sull'Ipsia eroica in trasferta. Ma certo che presentarsi con questo risultato e questa prestazione alla partita con l'Inter credo che non sia il massimo né per Tiago Motta, né per la squadra, né per i tifosi e nemmeno per i dirigenti. Quindi quando il portiere è il migliore, nettamente il migliore e la partita viene persa non ci sono giustificazioni. Ecco questo va detto. Ci sono al limite delle considerazioni che possono essere fatte sul valore dei giocatori. Mi spiego meglio. Questa squadra accetto il discorso che può anche essere migliorata nella guida tecnica passando da Allegri a Tiago Motta. C'è stato un miglioramento. Ma poi nel singolo sviluppo dei giocatori, se si toglie Coop Miners, per me un miglioramento era nelle aspettative, ma non concretamente. Ecco, mettiamo Calulu, poi Coop Miners che non ha ancora giocato al meglio, magari anche Calulu. Però se no in generale, io credo che le spese che sono state fatte, lasciamo stare che si è infortunato stasera, ma per Douglas Lewis, tutto sommato anche per Turam e per tutti gli altri, Cabal anche, sono spese che non trovano un riscontro oggettivo ed efficace sul campo. Se poi anche con Césaro, che finora aveva obiettivamente giocato molto bene, vive una serata in cui giocherella senza però avere mai la potenza, la prepotenza, la presenza per affondare il colpo, è chiaro che qualche dubbio sul mercato della Juventus credo che sia legittimo. Il discorso è comunque molto ampio. Credo che tra tutte le spiegazioni che si possono dare ci possa anche essere la serata storta, in cui la Juventus pensava all'Inter può essere la giustificazione. Se la firma Tiago Motta può essere una giustificazione, perché altrimenti senza questa giustificazione si fa abbastanza fatica a non rivedere complessivamente tutte le prestazioni della Juventus fino ad ora in stagione, a parte PSV e soprattutto Lipsia, anche in campionato si rivedono con gli occhi della realtà, dei dati, dei numeri, dei fatti, delle prestazioni che poi alla fine ti tocca la serata storta come lo Stoccarda va messa in conto. Ecco.